Ho toccato con mano cosa significa arte, la parola proprio arte, il disegnare, il liberare la mente dalle immagini e trasferirle sulle proprie mani. Iole è veramente una grande professionista e ha aperto proprio la mente. Sto iniziando a guardare il mondo sotto anche un altro punto di vista e dopo questa bellissima esperienza sono pronta assolutamente a raggiungere i miei obiettivi a qualunque costo e quindi ecco ringrazio tantissimo questa artista favolosa e ecco lascio a voi la scelta. Spero tanto che riuscirete a collaborare tutti con lei perché è veramente ottimo. Ho avuto modo di provare il suo metodo PAP e devo dire che è veramente efficace, consiglio a tutti di seguirla nella sua pagina e di provarlo perché veramente mi ha proprio colpito, in particolar modo ci ha fatto fare un esercizio di pittura dovevamo appunto disegnare quello che per noi è il successo e quindi guidati dalla sua voce ha fatto emergere dentro di noi delle immagini che abbiamo realizzato su dei fogli attaccati alle pareti e non l'abbiamo mai fatto, è stato veramente bellissimo e questo esercizio ti può veramente far capire quello che c'è dentro di te, quello che ritrivi e che invece deve essere tirato fuori perché i sogni vanno realizzati, noi dobbiamo tenere nel cassetto. Ciao a tutti! Ciao, sono Luca, ho partecipato ieri a un esercizio molto interessante di GNM, questa grossa artista che riesce a motivarti partendo da un disegno e tipo da questo semplice disegno puoi riuscire a fare uscire da te i migliori pensieri e motivazioni per raggiungere il successo. Quindi la prossima volta seguite i corsi di GNM e sarà una motivazione per raggiungere il vostro successo personale. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Massimo Poloni, mi trovo da Stago e ieri con Iole e noi e noi Marischi abbiamo sperimentato un sistema che è stato veramente sensazionale, il Personal Art Painting. è praticamente la possibilità di mettersi davanti a un foglio bianco e lasciare fluire da quello che è la nostra mente un flusso di pensieri che si materializza sul foglio e ci dà effettivamente una risposta a quelli che sono i nostri grandi poesiti esistenziali e devo dire che a me è servito molto perché ieri ho visto materializzarsi sulla carta quello che è il mio obiettivo di vita e per me vederlo nero su bianco è stata una grande soddisfazione ma soprattutto una certezza quella certezza che fino ad oggi mi è mancata perché alla fine il concetto questo, l'arte, è la possibilità di comunicare i grandi segreti che ci portiamo dentro. Ciao a tutti, Massimo